Dì mamma, ti manda ancora ai fiori il tuo amico? Che l'ha fatto? Io volevo provare e ho provato. E poi anche a te non te ne è mica importato niente che prima andava con tua madre, no? Che cosa? Parlami, dimmi qualcosa. Cosa c'è? Io non ho niente da dirti. Sì, che gelosa. E perché dovrebbe esserlo? Cosa ti salta in mente? Guardi che con me è inutile che... A me sembra che hai ragione essere arrabbiata con me e con Giuseppe per quello che abbiamo fatto. Sì, che gelosa. Oh Dio, non volevo. Andiamo su, guai.